Il Cagliari Occasione gol per il Cesena al 26esimo Il tiro di Oddi accarezza il palo e finisce sul fondo In apertura del secondo tempo è il Cagliari che minaccia la rete di Boranga Bello il tiro al volo di Graziani verso l'incrocio dei pali Forse il Cesena ha raggiunto la sicurezza troppo presto in questo campionato E non trova più traguardi stimolanti Anche se fu proprio il Cesena a far cadere alla Juventus tre settimane or sono Sergio Buso a difesa della rete del Cagliari ha mostrato notevole sicurezza La squadra di Tidia sembra non aver abbandonato tutte le speranze L'ultima insidia allo 0-0 viene dal piede del terzino Ceccarelli Ma anche questa si dissolve nel nulla Gigi come sono le tue condizioni oggi? Direi abbastanza bene, se dovessi andare in ufficio sono pronto Ma per giocare al calcio quando sei pronto? Ma un vero programma non è stato fatto Adesso sono la prima fase, cioè la preparazione in palestra E poi penso che fra 15 giorni comincerò la corsa Grazie a tutti